Grazie a tutti per essere venuta alla trena migliore che abbiamo. Grazie. Io sono una vecchia amica del commercio eco e solidale perché quando ero presidente della provincia di Torino una dozzina d'anni fa abbiamo avviato un'iniziativa che purtroppo dai miei successori non è stata proseguita facendo una sorta di fiera come questa del commercio eco e solidale e anche attraverso progetti di cooperazione con vari quarti del mondo. In quel caso il caffè, I apologize, it was not from, it was from Chiapas, però naturalmente anche con tutti gli altri e sono rimasta una grande appassionata. Anche al Parlamento Europeo quindi sosterrò il fatto che l'Europa vada avanti perché certamente l'Europa che è il più grande importatore e esportatore del mondo ha già delle politiche molto migliori di quelle di altre parti del mondo. Però c'è moltissimo che si può ancora fare e credo che dobbiamo farlo. Grazie. Potete contare su di me, mi troverete lì e farò sempre disponibile. Grazie. 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 Grazie.